Ciao a tutti e bentorni sul mio canale, non vi spaventate ma a questo punto avrete già visto la challenge con il pennello quindi mi avrete già vista così volevo farvi vedere un po' come ho realizzato questo make up ovviamente questa è foglia d'oro che ho incollato con il prosaid che ho messo malissimo e per il resto del make up è tutto make up normale allora la base l'ho realizzata con il fondotinta e il correttore di Huda Beauty come cipria per dare questo effetto così luminoso ho usato questa mini size della translucent loose powder glow di Laura Mercier non fate caso le mie mani, ancora non mi sono neanche andato a pulire le mani penso che ci vorrà una doccia in cui dovrò strofinare, strofinare, strofinare poi, comunque continuiamo per il... come terra... l'ho già posata, dove l'ho messa? non riesco a vederla... vabbè, come terra ho usato il duo di Charlotte Tilbury quello per il conturo... ah eccolo, questo Filmstar Bronze & Glow di Charlotte Tilbury per il blush ho utilizzato la Glimmer Light di Nabla nello specifico il colore centrale come illuminante ho utilizzato il colore oro della Born to Glow di NYX vediamo gli occhi allora, per gli occhi ho utilizzato per la parte blu allora, come colore di transizione ho utilizzato della palette Metropolis di Natasha Denona questo colore qui per il blu, credo sia la 1 questa, di Pat McGrath il colore blu e per l'oro ho utilizzato l'oro di Natasha Denona, sempre della palette di prima nello specifico questo e poi... infatti sto sporcato tutto di oro, ma vabbè e poi sopra gli ho picchettato qual era questo? il lombretto di Stila Follow the Sun dei Glitter & Glow eccolo qua per le labbra ho utilizzato... ah no, scusate, all'interno dell'occhio sia all'interno dell'occhio che sulle sopracciglia ho utilizzato la matita, e anche per fare il contorno labbra di Urban Decay delle Glide On nel colore Godness come rossetto ho utilizzato il colore Guy di Mulac che non ho più perché ho deputtato in questa palette comunque questo blu qua e sopra gli ho tamponato sempre l'ombretto di Stila e questo è il risultato finale questo è tutto fatemi sapere cosa ne pensate un bacione, alla prossima!